Nelle sale appena uscito Back to Black, il film definito romantico e rispettoso sulla vita di Amy Winehouse e da Città di Castello al Teatro degli Illuminati è arrivata la sua band storica. L'evento organizzato dalla Take 5 Music Academy si è aperto con un concerto della band di Amy. L'evento è nato grazie a una precedente collaborazione con Dale Davis, che è il bassista storico di Amy, nonché direttore musicale della sua band iniziale. Inizialmente era partita di Ospitiamo Dale e facciamo una giornata con lui, poi abbiamo inserito Nathan, che è il battarista, ex Antone, sicché alla fine è rimasta solamente da aggiungere Bronti e così è nata la giornata a tributo ad Amy. La giornata è poi proseguita dando la possibilità a 34 giovani tra musicisti e cantanti di esibirsi e lavorare con la band storica britannica, per poi concludersi con un concerto finale. La musica va vissuta, è basata sulle esperienze, quindi penso che la giornata è andata nella direzione giusta.